benvenuti welcome ciao a tutti i ragazzi bentornati su open space vi aspettavamo vero rocker tv open space puntata numero 12 fieramente la dodicesima puntata di questa trasmissione di questa ormai longeva trasmissione assolutamente oggi ragazzi puntata inedita perché siamo in diretta su instagram è vero siamo in diretta su instagram ma è differita su ma ci vedete poi su youtube bellissimo insomma ne approfittiamo subito così in prima battuta per ricordarvi che i nostri social sono tanti se volete essere sicuri di vederci essere aggiornati seguiteci su tutti così non sbagliate instagram youtube facebook e twitch per i più moderni lo ricordiamo perché la volta scorsa ci siamo dimenticati lo diciamo talmente spesso scorre sempre in sotto impressione come mi piace dire però se volete mandarci il vostro materiale e se volete anche poi lamentarvi del fatto che non vi siamo stati ad ascoltare si può fare si può fare perché tutto è lecito siamo in un paese in cui la libertà ha un valore importante però abbiate fede perché qui come mi piace dire anche chi mi scrive personalmente la questione che voleva arrivare qualcuno ti sta tartassando la questione la questione ma non solo me ho saputo oggi la questione è che open space e rocker tv in questo momento è un imbuto cioè ok noi riusciamo a passare solo due artisti a puntata e stanno arrivando tante fortunatamente tante richieste di partecipazione per cui scriveteci non desistete anzi fatelo ancora più volentieri rocker tv 2020 chiocciola gmail.com è anche l'indirizzo che riuscite a leggere qui sotto per cui noi ve lo ripetiamo infatti e più guarda colgo l'occasione per ricordarvi ragazzi la selezione è naturale non ve li dovete prendere a male perché lo diceva anche Darwin no ma al di là dei riferimenti scientifici è così è giusto c'è una santa redazione la vogliamo sempre ricordare santa o maledetta? esatto santa redazione che seleziona le nostre proposte siamo sempre contenti che ne arrivino tantissime dopodiché noi abbiamo l'onore di presentare e conoscere le band che appunto arrivano alla fine di questo imbuto dantesco è vero è un imbuto è normale ragazzi così avete la certezza che ci mettiamo dell'impegno non per questo quindi avete il diritto di tartassare il mio compagno di avventura ma no ma non mi stanno tartassare ma mazzo state molto tranquilli raga no 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 poi chiaramente è anche molto amichevole perché c'è quello che mi dice ma sai mi piacerebbe purtroppo open space rocker tv in questo momento è un imbuto lo diciamo anche per quello che riguarda le altre trasmissioni è tutto a imbuto cioè due band a puntata due band a puntata ragazzi noi abbiamo intenzione di rimanere in onda per tanto tempo quindi moltiplicate queste due band per puntata per tante tante puntate per cui le occasioni sono davvero tante e con il futuro del nostro paese cresceranno sempre di più perché partiamo dalle nostre dirette streaming per poi proporre ospitate live concert e altre fantastiche idee che ci vengono quotidianamente e sono sempre in fase di discussione per cui aggiornatevi insieme a noi abbiamo una chat no? non disperate abbiamo una chat esatto non vi inseriremo nella chat non preoccupatevi non vi inseriremo ma avete anche la nostra disponibilità perché come sta dicendo Giuseppe adesso anche a me è capitato di ricevere qualche messaggio su Instagram soprattutto è mio piacere ricordarvi a quel punto che appunto c'è una mail di riferimento rockertv2020.com dove potete proporre voi stessi vostro cugino o i vostri amici che suonano o le band che vi piacciono sarebbe una cosa fantastica avere i fan a proporre le band emergenti se c'è una strada maestra strada maestra ed unica per arrivare a open space è quella della mail per cui è lei è lei la strada verso la santa redazione comunque hai ragione sì è anche divertente se vengono trasmessi o richieste o proposti dei gruppi di amici di conoscenti di fratelli gruppi inesistenti gruppi fantasma progetti che dal vivo non esistono ma che esistono solo in studio in questo momento è plausibile perché se vuoi formare una band nel 2021 devi formare una band una ghost band devi crederci uno devi crederci forte forte più forte di tutti gli altri arrivati fino adesso poi in effetti esatto devi avere uno spazio racchiuso tra quattro mura uno spazio in sicurezza esatto e cominciare a sviluppare da lì è vero però una delle cose dei risvolti che mi piacciono è che è un po' di anni ma in particolare con il lockdown si è sviluppata questa cosa si riesce a creare musica anche molto a distanza anche molto senza senza per forza conoscerci così profondamente come nelle band in cui si è amici da tanti anni eccetera eccetera e soprattutto attraversando l'oceano questo mi piace molto quando si crea una band con un membro in america con un membro in giappone un membro in italia per dire è interessante vero? è vero è vero apre decisamente le frontiere e in effetti insomma il discorso dell'online è stato poi molto molto vivo gioco forza insomma in tutto questo periodo e abbiamo sentito tante voci chi si schierava assolutamente contro chi ci si è avvicinato magari con diffidenza solo perché riteneva di non avere alternative chi invece è stato insomma un entusiasta esploratore di questa soluzione che in effetti tra le varie qualità che vanta ha proprio quella della liquidità cioè la connessione vera e propria è in effetti questa quella che valica i confini geografici in questo caso ma nel momento storico in cui ci troviamo mi viene da dire anche i confini delle difficoltà imposte insomma per cui è assolutamente una buona occasione per ampliare l'orizzonte la musica è liquida in tutti i sensi anche nel senso che ormai ahimè non vengono più stampati i compact disc le ultime fabbriche di quel formato sono state chiuse rimangono pochissime stanno per essere chiuse anche le poche rimaste e per cui andiamo verso un futuro in cui c'è l'MP3 ci sono i file digitali c'è un po' di ritorno al vinile un po' di ritorno alla cassetta fra qualche anno ci sarà un ritorno al cd è un po' tutto ciclico stavo per dirlo esatto infatti nel momento in cui qualcosa esce dalla lista degli oggetti cult qualcos'altro appena in coda dietro rientra appena dopo il vinile è ritornata la cassetta io in effetti essendo una grande frequentatrice come pubblico proprio di concerti di band emergenti mi diverto sempre anche a vedere qual è il merchandising che le band emergenti propongono perché spesso è un ambito in cui tanti si esprimono veramente con molta creatività per cui mi è capitato di vedere la classica t-shirt il cd che adesso bisognerà vedere che futuro avrà sempre più in voga la cassetta che in effetti ho acquistato molto volentieri ma che belle che erano le cassette anche che scomode che erano perché per sentire un pezzo fare avanti e indietro con il tastino era duro e poi soprattutto riavvolgerle con la penna per non riavvolgere il è vero sai che ho visto un film ho visto un film ultimamente che si chiama Be Kind Rewind non so se l'hai mai visto è uno dei film un po' di culto minore di Jack Black che è quello di School of Rock ok il film si chiama Be Kind Rewind vuol dire per favore riavvolgi e loro lavorano in un negozio di videocassette di VHS ah ok infatti il gesto di riavvolgere la cassetta il nastro digitale che fosse una cassetta che fosse un audio cassetto una videocassetta certo era importante perché se lo facevi con una penna ad esempio non rovinavi il lettore di audiocassette che a riavvolgere si rovinava la testina tanto quanto da ascoltare quindi c'era questa usanza e questo meme che esce spesso su internet chi si ricorda l'uso di questa bic associata alla cassetta vuol dire che comincia ad avere una certa età io almeno mi ricordo molto bene perché passavo le mie giornate a fare il cowboy anziché col laccio con le cassette che giravano con il nastro alle volte mi partivano anche con danni però era bella la cassetta un po' rotta per la prossima volta vogliamo vederti col cappello Texas per favore spoggiano ti aspettiamo così diamo anche un bel teaser per la puntata della settimana prossima nel frattempo vogliamo salutare tutte le persone che ci stanno scrivendo ragazzi su Instagram in parallelo in parallelo su Instagram e che hanno come noi tanta tanta nostalgia degli anni 90 tanta nostalgia del vinile in questo caso assolutamente ragazzi questo è un bellissimo viaggio nel tempo perché chi ci sta seguendo su Instagram non è che ci sta seguendo adesso su YouTube eh no è un caro e divertente viaggio nel tempo esatto mi raccomando però ragazzi non siate timidi sotto il video di YouTube ovviamente si può commentare noi l'abbiamo detto siamo attivissimi anche personalmente sui social per cui avrete la nostra attenzione se volete farci notare qualcosa o se volete partecipare appunto all'attacco di nostalgia che ci è venuto oggi raccontandoci viaggiando per concerti di band emergenti qual è stato il merchandising più particolare che avete trovato? oh che bella domanda mi interessa mi interessa e mi piace dai per cui vorrei che i nostri amici del futuro su YouTube ce lo scrivessero yes ma che lo facciano anche i nostri amici del passato su Instagram lì a sinistra cari amici oggi la realtà è sfasata ma ci piace così yes è tutto premeditato non c'è casualità in quello che stiamo facendo assolutamente e a proposito di non casualità oggi ci siamo studiati insomma la storia di altre due band emergenti che abbiamo il piacere di farvi ascoltare siamo in pieno tema rock posso dire oggi proprio un rock che addirittura non mi sento neanche di definire sai con una seconda sfumatura ormai è inevitabile ormai è inevitabile il rock rock cazzo ci sta? la redazione è incentrata su quello la santissima oh Alessandro scusate Alessandro si merita un bacio personale perché mi ha mandato un fiore ah bene ah beh c'è un po' di interazione i nostri amici del passato su Instagram non sanno che i nostri amici del futuro fra poco vedranno tutto comunque non perdiamoci scusami Giuseppe perché poi sei tu l'esperto del campo allora abbiamo spesso presentato le nostre band attraverso ovviamente in primis le loro parole perché giustamente l'artista giusto si descrive come si sente più rappresentato sì e spesso ci siamo ritrovati ad accostare alla parola rock di base rock melodico rock punk rock metal progressive o influenze da anche cantautorato piuttosto che musica elettronica insomma oggi mi sembra veramente che la parola rock invece soddisfi già pienamente quello che è il sound quanto meno della mia band passo ad illustrartela vai allora ragazzi oggi oggi io vi presento una band che si chiama Fireground i Fireground sono nati nel 2018 quindi hanno iniziato la loro attività veramente a ridosso del periodo più rischioso per la musica emergente ma nonostante questo sono riusciti a far uscire il loro primo singolo nel dicembre 2020 il singolo che poi andremo a sentirci insieme voglio però mettere l'accento sul fatto che i Fireground sono tuttori in attività e l'uscita del loro disco è prevista per aprile 2021 quindi ci siamo quasi li vogliamo sostenere facendovi sentire oggi con il singolo uscito a dicembre 2020 Warm I'm living like a worm And worms don't last too long You buried all my instincts in a hole The city said it all Another curtain falls The firebreak is always missing But if I could But if I could well I would come out in the open Just to be reaching you The first way through your side So bring my mark upon your flesh Make sure you want it There is no sense in running The universe is too wide for me Hey, how do you do? Hey, baby Hey, how do you do? Hey, how do you do? Hey, baby Hey, why do you run? I've learned to fight alone Every day without you And no ten ways to keep my mouth shut If silence's what you want And my absence's what you need I'll burn me on my silly words On the ground But if I could well I would come out in the open Just to be reaching you The first way through your side So bring my mark upon your flesh Make sure you want it There is no sense in running The universe is too wide For me Hey, how do you do? Hey, baby Hey, how do you do? Hey, how do you do? Hey, baby Hey, why do you run? I won't hurt you Anymore 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 ed eccoci qua ed eccoci di nuovo in onda mi piace mi piace comunque quanti gruppi ci sono anche che si capiva l'inglese raga che non è scontato quanti gruppi ci sono con un disco in uscita nel 2021 il 2021 sarà l'anno proprio dell'esploit appunto anche i nostri firebrand che spero davvero vi siano piaciuti questo è il loro singolo warm è uscito recentemente un nuovo brano che darà il titolo anche al disco in uscita appunto aprile 2021 se vi sono piaciuti ragazzi andatevi a cercare e ascoltatevi tutti i loro brani yes comunque grande volontà ragazzi da parte delle band emergenti che non demordono e anche in un anno come questo pieno di incertezze veramente continuano a lasciarsi ispirare e a scrivere musica per cui ci sarà una vaga di proposte no sarà l'anno con più dischi mai usciti questo è interessante interessante da un lato forse un po' dispersivo mi viene da dire dall'altro perché comunque magari ti perdi qualcosa di bello dici eh può darsi sai che qual è sempre la mia ossessione quante cose ci sono al mondo dischi, libri, luoghi e siamo costretti a scegliere ma per fortuna noi abbiamo la santa redazione sceglie bene sceglie bene questa è la domanda ragazzi fateci sapere se secondo voi sceglie bene perché noi siamo sempre entusiasti di presentarvi tutte le band che abbiamo il piacere di conoscere e di farvi conoscere sarà tanta musica Beppe dobbiamo impegnarci dobbiamo salvare del tempo per ascoltare e magari approfittare davvero della nostra posizione per come dire aprire le nostre orecchie a tantissime proposte anche diverse allora oggi abbiamo parlato di ascoltatori del passato Instagram ascoltatori del futuro YouTube e allora il viaggio spazio-temporale della musica di oggi vai ci porta direttamente al 2007 caspita fra Piacenza e Cremona dove nascono gli understatic movement yes loro sono una band metal alternativo con influenza riflessive pensa a te la loro storia è molto interessante perché vengono fuori con un EP quest'anno che si chiama Mirror da qui è tratta una canzone che ci andiamo a sentire si chiama Mezcal e da tutta per voi non cambiate canale per nessun motivo al mondo Mezcal understatic movement Disclose your eyes A new world like chaos wrapped in your bones Oversep your blood and just listen Please close your eyes A new world like chaos wrapped in your bones Oversep your own love and listen, listen Oversep your own love and listen, listen Oversep your own love and listen, listen I'm trying to run Can you hear me? Can you hear my voice? I'm trying to hide Can you hear me? Can you hear my voice? Oh Can you find me? I'm scrabbing No, I'm scramming Tried to run, tried to run away But after all found myself lost in pain All the steps, all the steps I've lost Tried to run away, but after all found myself lost Tried to hide Tried to hide Can you hear my voice? Can you hear my voice? I'm scramming I'm scramming I'm scramming I'm scramming Can you hear me? Can you hear my voice? I'm scramming Can you hear me? Can you hear my voice? I'm scramming Now can you hear me? Can you hear my voice? I'm scramming I'm scramming I'm scramming Can you hear my voice? Can you hear my voice? Can you hear my voice? I'm scramming Now I'm scramming I'm scramming I'm scramming contro le melodie assolutamente easy listening dei understated movement questa era Mezcal io direi che è stato un viaggio bello, pesante in quello che è il metal alternativo ottimo, ottimo, ottimo e vedi che infatti anche loro si identificano in un nome composito quindi è difficile darsi un genere ma ci fa piacere che sia possibile anche accostando diverse sfumature identificarsi in una musica che ci rispecchia io penso che la loro definizione sia molto interessante metal alternativo ma riflessivo non l'avevo mai sentita, sono sincero è originale se non altro è vero tanto quanto il loro sound verissimo direi altra puntata al fulmicotone è vero il fulmicotone ogni tanto mi piace dirlo tanto che il nostro amico Wayne sarebbe fiero di noi perché Wayne diffusi di testa ovvero colui che era l'attore di quel film è anche la nostra mascotte e a lui piaceva il metal pesante il rock, quello duro quello che all'epoca si chiamava rock duro insomma il rock duro di Rocker TV il rock duro di Rocker TV esatto che è fratello o cugino o opposto al rock melodico meglio il rock duro o il metallo pesante questa è una bella domanda però qua è come chiedere se non so c'è stato prima l'uovo o la gallina o la carbonara cioè che vuol dire beh magari c'è di più la carbonara sono sincero vedi che alla fine siamo finiti a parlare di cibo Beppe è certo perché dietro le quinte dovete sapere che ci sono tanti scambi di idee anche culinari e quindi insomma anche perché fra l'altro ci siamo accorti da poco che su Instagram ci stanno seguendo i cuochi, gli chef oggi per cui secondo me non c'è un legame così forte tanto quanto quello della musica e del rock and roll se vuoi ti spiego anche perché prego caro vedo che sei lanciato volevo dirti che comunque c'è chi si è espresso subito dicendo meglio il metallo pesante ah beh queste erano due definizioni abbastanza vintage rock duro e metallo pesante venivano usate negli anni 90 metallo pesante ne parlava Giovanotti fra l'altro pesate in uno dei suoi primi dischi una band di metallo pesante invece rock duro era quello che le mamme non volevano che i figli ascoltassero certo troppo esempi troppo negativi e invece questo ormai si chiamano hard rock and heavy metal hard rock and heavy metal giusto perché in inglese suona sempre più cool no però dai metallo pesante raga metallo pesante è una definizione che io passerei in italiano a me piace dappertutto assolutamente lo discorterei come la pasta al pomodoro per continuare la nostra metafora culinaria di oggi ma io lo direi senza problemi se non fosse che sicuramente in tanti non capirebbero quello che voglio dire perché metallo pesante dice una definizione non è che non si capisce è troppo vecchia suona vecchia sai le parole che è vero è vero è vero è vero capisco capisco quello che intendi o magari becchi un professore di fisica che intende semplicemente una cosa letterale e ti lascia così con degli con una manciata di elementi non sonori vabbè dai mi sembravano però sono convinta che all'estero apprezzerebbero la nostra lingua è molto amata anche fuori dai confini nazionali c'è un grande amore per l'Italia in generale è vero ho scoperto bene a che punto siamo arrivati quindi ragazzi della nostra puntata dopo aver ascoltato queste fantastiche band non ci resta che annunciarvi che l'attività di open space non finisce qua ma si prolunga sempre qui su youtube con le nostre pillole le nostre pillole esatto se avete voglia di andare a cercarvi e so che morite dalla voglia andate quindi a ripassare le bende del nostro passato andate ad informarvi su quelle che verranno pubblicate nel futuro perché ogni venerdì usciamo nel pomeriggio con un breve estratto di quella che è stata la nostra puntata registrata apposta per voi per ricordarvi quali sono le bende che abbiamo ascoltato insieme anche perché io direi che in un periodo in cui si parla di vaccini mica vaccini no vax no masch eccetera eccetera la pillola del venerdì di rocker tv e quindi di open space è come la mela che toglie il medico di torno direi che non è male è assolutamente male per cui rimanete sintonizzati attivate la campanella su youtube qui sopra cari amici del futuro così la campanella è fondamentale per rimanere in connessione con noi ma noi ci siamo anche su twitch su instagram e su facebook assolutamente ci trovate dappertutto non avete che l'imbarazzo della scelta quindi ragazzi se vi piace la musica emergente se vi piace scoprire cose nuove e se vi piace scoprirle in una chiave rock scusa mi ero fatto prendermi affidatevi a noi ho pensato per un momento di essere roberto da crema com'è se vi piace rifallo riparto quindi se vi piace la musica emergente se vi piace la musica nuova e se vi piace però ci vuole anche il fiato quello un po' ma io lo sto facendo mi devi seguire ma soprattutto se vi piace chiave rock dicevamo affidatevi a noi affidatevi a noi let's stay with us esatto è sempre in prima linea per la musica emergente non chiudo la puntata senza prima aver ringraziato chi di dovere esatto che è arrivato il momento preferito ovvero quello dei ringraziamenti vai comincio tu comincio io io direi che per par condicio oggi ringrazierei il signor Morris Mazzone che la volta scorsa è stato è stato assolutamente bistrattato bistrattato no è stato ringraziato da parte tua hai detto che era il tuo preferito assolutamente non potevo dire è risultato nella puntata perché io ci tenevo è giusto grazie Morris grazie Morris alla parte tecnica logistica e al super aiuto che dai a questa trasmissione che è sempre più divertente vero sicuramente farla speriamo anche per voi seguirla e grazie mille al nostro AM acronimo per il nostro Andrea che sta dietro la cinepresa dietro al montaggio e insomma alle nostre spalle per coprirle e farle sentire al sicuro grande giovane leva del rock'n'roll direi visto che è colui che monta mette insieme mixa miscela però oltre a lui c'è anche Gianluca non dimentichiamo Gianluca Gianluca grazie per il tuo apporto in redazione e a Ops l'ho detto pardon per la grande mano che ci stai dando della gestione dei traffici come ho detto la prima volta grazie Gianluca esatto dai ringraziamo anche Mario lo ringrazio tu ma certamente ma ringraziamo insieme dai lo diciamo come si chiama ma sì il nostro super boss Mario Riso sai come dicevano in fantazzi è un bel direttore è un bel direttore è un bel direttore grazie Mario grazie Mario per la tua fantastica idea Rocker TV è stato il tuo bambino del 2020 e noi lo facciamo crescere veramente con grande piacere growing up like a flower come diceva Paul McCartney e allora continuiamo ad innaffiare continuiamo ad innaffiare questa trasmissione che grazie anche al vostro contributo cari amici che ci scrivete le mail a rockertv2020 chiocciola gmail.com con i vostri video per cui continuate a farlo tanti saluti da parte mia Giuseppe da parte mia Cali vi salutiamo dalla nostra fantastica redazione di Open Space vi aspettiamo domani con le nostre pillole e settimana prossima per una nuova puntata Ciao a tutti to bello Grazie a tutti